Salve a tutti amici amanti dei bei libri e delle letture a valtavoce. Protagonista di questo episodio della narratrice di sogni sarà Andrea Pasquale con il suo secondo romanzo, il ragazzo che girava le viti sbagliate del mondo. Andrea Pasquale nasce all'inizio degli anni Ottanta in Molise. Fin da bambino dimostra scarsa propensione per lo sport e una passione sfrenata per il mondo nerd, soffocando così ogni speranza di contatto con il mondo femminile. Nel 2001 si iscrive a relazioni internazionali, nel 2006 vince la borsa di studio Erasmus a Granada. Lì, tra cocktail mefistofelici e donne di facile seduzione, impazzisce e dall'anno seguente comincia a prendere più aerei che autobus. Si ritrova così ad essere guida turistica in Francia, muratore in Spagna, cameriere in Giappone, studente in Scozia, stagiste in Uruguay e Belgio e turista incallito. Dal 2010 vive e lavora in Cina come insegnante di italiano, spagnolo e inglese. Nel 2017 esce il suo primo romanzo, Le tribolazioni di un italiano in Cina, che in sole tre settimane diventa il libro più venduto nel suo condominio. Attualmente prosegue la sua vita in Cina e continua imperterrito a viaggiare per il mondo. A questo punto vorrei leggere per voi la trama del suo romanzo. Forlì, primi anni 2000. Il Falqui è uno studente fuorisede con l'inclinazione a prendere decisioni sbagliate, in amore come nella vita. A seguito di mesi e mesi di asfissianti insistenze della sua discutibile fidanzata, accetta ad occhi chiusi un posto part-time presso l'agenzia del suocero. Quello che troverà, però, non sarà il classico lavoro da ufficio. A causa del cognato Pippo, che si rivelerà essere il beccamorto più rinomato della città e di una ragazza misteriosa nella quale continuerà a imbattersi per un capriccio del caso, il Falqui si ritroverà in un vortice di folli becchini, drammatici seminari, muscolosi fidanzati, turpi inganni e situazioni surreali. Ispirato a fatti realmente accaduti, il ragazzo che girava le viti sbagliate del mondo è la storia di come alle volte le avventure più importanti partano da una decisione. Quella in Fausta. A questo punto vorrei leggere per voi un brano tratto dalle prime pagine dell'opera. Andiamo nella saletta ricreazione, ci avviciniamo al distributore e mentre armeggio con monetine e resti, osservo la mano chiedere ed ottenere una sigaretta da uno studente. Se la fa accendere e poi comincia ad aspirare con gusto. Che c'è? Non approvi che io fumi? Mi chiese avvicinandosi. Figurati, mica sono il tuo fidanzato io. Ops. Giusto, risponde continuando ad aspirare lentamente e stampandosi uno di quei sorrisi che mi fanno sentire un'idiota. Il primo caffè viene erogato e lei mi fa segno di berlo per primo. Giro lo zucchero con il bastoncino di plastica e poi appoggio il bicchiere per bagnarmi le labbra. Tra il gusto amarognolo che mi pervade in bocca e la mano qui di fianco a scuotermi i sensi con il suo modo di fumare, potrei non chiedere niente di più al mondo. Bugia. Sarebbe meglio se la baciassi. Ma cerchiamo di imbrigliare le aspettative, soprattutto tenendo conto che io ora ho l'alito di caffè e lei di sigaretta. Non sei l'unico che gira le chiavi sbagliate del mondo, Falqui, dice lei all'improvviso. Cosa vuoi dire? Che non è un'immagine che ho creato appositamente per te. In realtà anch'io mi sento spesso così. Non lo so, penso a quando i miei amici si circondano dello stesso tipo di persone. Hai presente? I medici con i medici, gli avvocati con gli avvocati, gli architetti con gli architetti, eccetera. Quando mi invitano a cena fuori io divento la ragazza soprammobile, per usare una terminologia tutta tua. Cioè? Te lo spiego subito. Immaginatelo. Cena tra medici. La cosa peggiore che possa capitare nella vita. Antipasto. Sapete, ragazzi, fa il primo aspirante JD. Oggi in radiologia ho chiesto a una signora se avesse fatto l'ascendente e lei mi ha risposto che non sapeva niente di oroscopo. Peggio di me, oh. Assolutamente. Ma al tavolo ridono tutti. E non in maniera normale. Accrepapelle. Si contorcono dalle risate. Tranne la sottoscritta. Poi arriva il primo. Oggi ho visitato una signora che deve proprio stare attenta dove mette il piede destro. Quello sinistro ce l'ha già nella fossa. Secondo. Ma state seguendo quella nuova ricerca del dottor Kransteiner sulla fischio micosi acuta? Pare che stia facendo passi da gigante, soprattutto nei pazienti affetti da genovefoide anomala. Sì, ma io credo che il vecchio metodo First Timer sia preferibile per una più bassa concentrazione di effetti collaterali. No, ma che dici? Se leggi il saggio del professore Aerofagi, se lui smentisce in toto questa teoria, dimostrando con esempi pratici come la minchioglobina presente nel sangue non sia invece alterata da interventi chirurgici atti alla manipolazione del cremiocroma. Verso il dolce decido anch'io di dare il mio contributo alla serata. Qualcosa di facile che dei giovani della mia età possono masticare senza problemi? Ragazzi, avete sentito che sta per uscire il nuovo album dei Rolling Stones? Pare che il tempo per loro non passi, eh? Il tavolo si ammutolisce e gli occhi dei futuri luminari della medicina si posano su di me. Rolling chi? Stones. Un gruppo molto famoso. Beh, non fa niente. Comunque anch'io preferisco il metodo d'Orly. Cransteiner. Ed ecco che torno ad essere la ragazza soprammobile. Sì, capisco cosa vuoi dire. Benvenuta nel mio mondo. Ti ricordo però che in teoria io adesso dovrei trovarmi nel mio ambiente. E comunque riesco ad essere un pesce fuor d'acqua. Lei aspira l'ultima boccata di sigaretta. Sorride e accartoccia il mozzicone contro il fondo del bicchierino di caffè vuoto. Questo perché tu sei uno sfigato. Dai, torniamo dentro. Hai un esame da superare. Bene, spero di essere riuscita a incuriosirvi. Se deciderete di tuffarvi fra le pagine del libro di Andrea Pasquale, buona lettura. Ci vediamo presto con un nuovo episodio di La narratrice di sogni. Ciao!